Ciao a tutti, oggi siamo in diretta da Radio Sherwood, qui al Sherwood Festival di Padova e con noi oggi ci sono gli ospiti Stefania Barca del Centro Studi Sociali dell'Università di Coimbra, membro del gruppo di ricerca Ecologia e Politica del Presente, Alice Dalgobbo e Salvo Torre, membro invece del gruppo di ricerca Politica, Ontologia ed Ecologia. Oggi con loro vogliamo parlare un po' di movimenti per la giustizia climatica, ai movimenti sulla lotta appunto contro la crisi climatica. E una prima domanda che vogliamo rivolgere riguarda proprio gli avvenimenti più recenti. Si parla infatti delle elezioni europee, delle elezioni europee che si sono ottenute il 26 maggio e che hanno avuto come immediato riscontro una sorta di ondata del cosiddetto voto verde. Un voto che non può essere considerato in realtà come una diretta espressione dei movimenti effettivamente ambientalisti ed ecologisti che si sono visti muoversi negli ultimi mesi e negli ultimi anni, parzialmente perché molti di questi sono caratterizzati da una radicalità che li rende incompatibili di fatto con alcuni programmi istituzionali, dall'altro perché un movimento come quello di Fridays for Future è incompatibile dal punto di vista invece anagrafico con lo stesso atto di andare a votare. Ecco che però comunque movimenti come questi, anche questi ultimi giovanili, hanno sicuramente influenzato negli ultimi mesi il dibattito pubblico e hanno reso egemone talvolta la discussione sul cambiamento climatico, nel dibattito anche mainstream. Ecco, attraverso questo meccanismo anche di influenza, di impatto sulla narrazione mediatica, che movimenti secondo voi hanno effettivamente una possibilità di soggettivare, di politicizzare in qualche modo la società al di là dell'idea standard, diciamo, della rappresentanza e possono effettivamente essere in grado di imporre in agenda una qualche riflessione, uno spunto su un mutamento di fatto sistemico del programma politico? Bene, dunque, sì, innanzitutto grazie per questo invito. Sì, io penso che, come dicevi tu, siamo dentro una nuova ondata di movimenti e di mobilitazioni che non sono effettivamente rappresentate nella sfera politica, nella sfera parlamentare, nella sfera partitica. Io penso che la motivazione fondamentale, come dicevi anche tu, è il fatto che questi movimenti sono portatori di una visione antisistemica, quindi che è diversa da quella del capitalismo verde a cui siamo stati abituati dagli anni 90 in poi. Il discorso ecologista si è sviluppato dentro il discorso, diciamo, della crescita verde, dello sviluppo sostenibile, del riformare il sistema. Ora, secondo me questa è una grande occasione storica, è l'occasione di, io direi con una formula molto sintetica, cambiare il mondo piuttosto che salvare il mondo. E penso che questa è la grande, diciamo, occasione che abbiamo oggi con questi nuovi movimenti. Cioè quella di, appunto, di mettere in discussione questo modello egemonico che è il capitalismo e riconoscere che il capitalismo è la causa del problema. Ora, come i movimenti, diciamo, possono portare avanti questo? Io credo che una strategia, diciamo, importante è nel linguaggio. Adottare un linguaggio che non sia più il linguaggio dello sviluppo sostenibile, appunto, della tecnologia, delle tecnologie pulite, non perché bisogna essere contro le tecnologie, ma perché bisogna, è molto, è prioritario, diventa prioritario a questo punto storico adottare un linguaggio di giustizia. Cioè la lotta contro la crisi climatica è una lotta per la giustizia climatica, per la giustizia ambientale, è una lotta contro l'ingiustizia, contro lo sfruttamento del lavoro, contro lo sfruttamento della natura, contro le disuguaglianze. Ecco, credo che questo sia, diciamo, che questo sia un linguaggio che ci permette, che permetterà ai movimenti di fare un passo avanti rispetto al, come si dice, al business as usual. E collegato a questo, poi c'è il discorso, c'è la necessità di unire tutta una serie di lotte che convergano dentro la lotta contro il cambiamento climatico. Quindi, lotte contro le disuguaglianze, quindi contro le disuguaglianze di classe, il sessismo, il razzismo e anche lo specismo, le disuguaglianze, diciamo, di specie. Ecco, che tutte queste lotte fanno parte di un'unica lotta, che è la lotta contro il sistema capitalista, che è la causa del cambiamento climatico. Vado io? Mi unisco anche ai ringraziamenti. Penso che i movimenti per la giustizia ambientale, l'insieme dei movimenti che in realtà rientra in questo momento nella grande nuova ondata di conflittualità tutta, diciamo, giocata intorno alla questione della grande crisi ecologica globale, siano in grado di dire o di comunicarci, di dare indicazioni molto forti su un altro aspetto del mutamento globale che sta avvenendo in questi anni. Da un lato è abbastanza evidente che quello che dicevi tu sulla questione delle elezioni è collegato al conflitto interno al capitalismo di cui ha parlato Stefania, cioè al fatto che c'è un'area che sostiene la tendenza verso, mettiamola così, la green economy, è un'area che ancora difende la vecchia economia fossile. Ma insieme a questo c'è evidentemente ormai la vittoria che il capitalismo ha avuto nel conflitto con la democrazia, e cioè la dissoluzione dello Stato moderno. Non c'è alcun rapporto fra quel risultato elettorale e i movimenti perché in realtà quello che sta avvenendo è un conflitto che come altri nella nostra storia sta costruendo lo spazio politico. E questi movimenti lo spazio politico lo possono costruire e lo possono costruire totalmente al di là dello schema dei confini nazionali. Anzi, non possono essere interessati a quegli schemi perché non ha alcun senso mantenersi all'interno di quel vecchio modello e soprattutto è evidente che gli Stati non sono più il riferimento di questo tipo di dinamica politica. E' chiaro che in questo momento ci sono due grandi movimenti che possono essere considerati come movimenti globali per quanto siano articolati in tantissime forme interne sono quello per il superamento del patriarcato e quello per la ricerca di una risposta alla crisi ecologica. Quello che sta succedendo, dal mio punto di vista, è veramente molto interessante è che finalmente la maggior parte delle esperienze conflittuali che si muove dentro queste due esperienze sta iniziando a costruire o a ricercare in maniera sistematica dei legami è la costruzione di un dialogo. Quello che è avvenuto finora nella nostra storia è che questo tipo di relazione è il luogo in cui si determina e si costruisce lo spazio politico. Se la globalizzazione ha definito lo spazio economico globale l'ha definito tutto dall'alto l'ha definito in termini anche di aumento della, diciamo, azione entropica del sistema capitalistico questi movimenti sono in questo momento probabilmente uno dei luoghi che può consentire la creazione di uno spazio politico globale. Quello spazio necessariamente sarà qualcosa di nuovo e non può essere rapportato al modello che finora dal nostro punto di vista era un modello di riferimento cioè lo spazio politico creato all'interno dello Stato moderno e il modello, mettiamolo così, della democrazia borghese. Su quel versante forse c'è un altro aspetto che può essere indicativo cioè non è neanche così lontano dalla verità il fatto che questi movimenti hanno avuto un certo peso perché sono tematiche che iniziano a costruire consenso sono tematiche che portano il problema a livelli veramente minimali la sopravvivenza contro la distruzione e sembra abbastanza evidente che su quel versante lì che però, ripeto, dal mio punto di vista non offrirà sbocchi ai movimenti quello che sta succedendo è che il dibattito ecologista tradizionale quello delle green economy, quello dei partiti verdi è destinato a soppiantare la socialdemocrazia nel caso europeo cioè il conflitto politico interno diventerà quello tra la destra e un'area ecologista. Sì, anche io mi unisco ai ringraziamenti grazie di questa bella occasione di discussione ecco, dal mio punto di vista uno degli aspetti interessanti di innovazione rispetto ai movimenti ambientali o ecologici che conosciamo e che li caratterizza come qualcosa di alternativo nel senso profondo del termine ossia di qualcosa che porta davvero avanti un'istanza politica completamente diversa rispetto ai partiti verdi e in generale alla politica istituzionale è il fatto che essi si rapportano direttamente con i processi di riproduzione e di vita per cui se normalmente siamo stati abituati a pensare anche il cambiamento politico come un processo che avviene attraverso delle istituzioni che in qualche modo sono distinte dalla vita stessa questi movimenti portano il cambiamento dentro i processi di vita e questo è molto semplice da capire perché effettivamente quello che la crisi ecologica pone è un problema di riproduzione o meglio di esistenza della vita del fatto di poter portare avanti la vita di per sé sul pianeta o comunque quantomeno per come la conosciamo ecco che la potenzialità dei movimenti ecologici contemporanei anche se in questo momento in qualche modo è anche la loro debolezza perché è quello che li porta a rimanere comunque a volte frammentari altre volte poco capaci di dialogare è però questo partire dalle istanze della vita e dei desideri così come li viviamo e come tutte le persone effettivamente ne hanno anche esperienza nella propria vita quotidiana il fatto che per esempio attorno alla produzione di cibo un modo di produrre cibo alternativo come possono essere gli orti urbani si creino delle esperienze di comunità diverse e di aggregazione che diventa anche politica diversa ecco che fa ripartire il discorso politico che appunto c'è stato in qualche modo negato o tolto da un certo tipo di globalizzazione fatta completamente in un modo esterno alla vita sulla base di interessi economici di pochi ecco che proprio in questi spazi di partecipazione possono affacciarsi dei modi diversi di costruire la nostra vita sociale insieme e penso che in qualche modo la sfida dei movimenti a venire sarà proprio quella di allargare questa base perché le potenzialità sono molto forti e al contempo ovviamente tutte le forze che vanno contro a questo processo sono in questo momento purtroppo ancora vincenti e dialogare tra sé per riuscire anche a trovare una base un'identità comune quantomeno nella ricerca nella tensione politica non necessariamente nel fatto di doversi omologare a un modello unico ma di riconoscere proprio questa propria novità della politicizzazione della riproduzione se vogliamo o della politicizzazione della sfera del vivente grazie 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 a tutti e tre insomma per questi numerosissimi spunti in realtà mi vorrei un po' collegare a qualcosa che in maniera diversa tutte e tre avete citato prima appunto Stefania con l'idea della creazione di un linguaggio che possa essere effettivamente condiviso e unitario poi soprattutto appunto salvo invece con l'idea della fine di questo stato moderno anche un po' dell'idea di stato nazione quasi di questi confini nazionali che in realtà invariabilmente vengono travalicati prima dal sistema economico ma ormai anche da qualcos'altro diciamo in potenza e poi appunto di nuovo anche da da quanto appunto diceva Alice sull'idea di una difficile interazione e comunicazione tra le lotte e tra appunto al di là dei confini che tutta via deve essere assunta nell'orizzonte ecco in quest'ottica sempre di superamento di confini che sono fondamentalmente fisici potremmo dire ecco lo sviluppo di una cooperazione di un'unità diciamo transnazionale o translocale per evitare di rimarcare l'idea della nazione secondo voi è effettivamente assunta come un possibile orizzonte strategico si vede effettivamente nei movimenti la volontà di costruire praticamente qualcosa che va dal di là appunto delle specificità locali e in caso questo possa effettivamente avvenire o meno gli stessi movimenti sono potenzialmente di fatto insomma a seconda in grado di assumere la lotta al cambiamento climatico nella sua ottica più complessiva mi riferisco appunto tu prima salvo citavi l'altro grande movimento che insomma negli ultimi anni si è dato e quest'anno ancora con più forza quello contro il patriarcato o il movimento antisessista ci può essere una sintesi diciamo rappresentata proprio dalla lotta del cambiamento climatico può essere uno sviluppo possibile o siamo ancora distanti insomma da una possibilità di questo tipo sì dunque allora cominciamo dal dire che il piano nella lotta per la giustizia climatica è una lotta assolutamente globale è una lotta che va fatta sul piano transnazionale translocale transregionale come lo vogliamo chiamare io direi che la battaglia per la giustizia climatica è l'internazionalismo del ventunesimo secolo perché ormai sappiamo fin troppo bene che il capitale opera su scala globale anche sul piano della produzione di crisi climatica e non solo climatica di crisi ecologica planetaria uno dei piani su cui questo è venuto fuori molto bene la questione del debito climatico che cos'è il debito climatico è la cognizione della percezione del fatto che la crisi ecologica e climatica planetaria in cui ci troviamo oggi viene pagata prevalentemente da quei popoli quelle regioni quei territori che meno di tutti hanno contribuito a crearla quindi questa crisi è stata creata da un sistema dalla globalizzazione del sistema capitalistico a partire dal sedicesimo o diciassettesimo secolo e con la spogliazione la rapina delle risorse dei territori colonizzati e per poi diciamo fomentare un modello di sviluppo che ha arricchito poi soprattutto diciamo i centri e che ha contribuito a cambiare il clima eccetera eccetera quindi insomma questo per dire che noi dobbiamo collocare le battaglie anche locali territoriali e regionali dentro questo contesto più ampio e questa articolazione secondo me tra la sfera locale regionale della della battaglia climatica e quella diciamo internazionale secondo me già c'è c'è ed è stata espressa chiaramente per esempio a partire dal secondo alcuni da Cochabamba nel 2010 ma poi in maniera diciamo molto evidente a Rio de Janeiro nel 2012 con il grande summit Earth summit di Rio più 20 vent'anni dopo quello il primo summit nel 92 dove addirittura diciamo i movimenti per la giustizia climatica hanno espresso un contro documento rispetto al documento ufficiale che era stato espresso il documento ufficiale si chiamava il futuro che vogliamo il contro documento un altro futuro è possibile e in questo contro documento c'è ci sono le linee guida di un'articolazione di una varietà di movimenti che sono tutti basati o quasi tutti hanno diciamo una forte articolazione territoriale ci sono dentro ci sono anche movimenti indigeni per esempio che diciamo esprimono proprio questo diverso modo di fare lotta ecologica no? estremamente legato diciamo alla difesa del territorio della sovranità che però hanno prodotto stanno producendo una forma di diciamo un discorso politico e anche una mobilizzazione politica a livello globale e che da allora dal 2012 a oggi hanno riproposto in occasione di tutti di tutti gli incontri di negoziazione climatica di tutte le cop prendendo anche botte venendo confinati no? al di fuori delle zone rosse eccetera eccetera però hanno di fatto riproposto diciamo questa idea alternativa del tipo di futuro che è un futuro che appunto si basa sulla sulla giustizia piuttosto che sullo sviluppo sulla crescita e c'è credo che oggi con il movimento Friday for Future e anche Extinction Rebellion hanno diciamo una grossa potenzialità stanno già dimostrando di convergere molto di più di incorporare molto di più questo discorso qui che quello della crescita verde quindi per questo io credo che sia una grande occasione storica questa di effettivamente di cambiare il discorso e la e la battaglia ecologista sì sono d'accordo è un'occasione storica è un'occasione storica legata da un lato al mutamento della fase dall'altro però anche all'emergere di una serie di potenzialità uniche allora vabbè è una vecchia considerazione il capitalismo non ha mai risolto nessuno dei suoi problemi li ha sempre spostati nel tempo e nello spazio siamo arrivati ad un punto in cui avendo creato uno spazio globale dentro cui sono presenti tutte queste contraddizioni ha avuto la necessità di aumentare il livello di produzione e riproduzione di linee di confini interni di linee di esclusione fino a giungere a nel tentativo di lungo periodo di incorporare le stesse basi del vivente a minarne i principi come diceva prima Alice ed è una fase storica da questo punto di vista unica cioè quella in cui in realtà riportare il conflitto a quel livello significa anche non poter in alcun modo eludere la necessità di proporre una società diversa la necessità di proporre un modo radicalmente diverso fin dalle sue stesse basi minimali quello che stanno facendo molti di questi movimenti in realtà in questo momento è la stessa cosa che ha fatto il movimento per radio alle sue origini e non c'era stato in mezzo tra quella fase lì e questa qualcosa di simile se non forse nelle fasi di picco dei grandi movimenti antisistemici cioè cercare di ricostruire comunità agire sul piano per esempio del mutuo soccorso agire sul piano della costruzione di spazi di vita agire direttamente su forme di organizzazioni che in sé sono il percorso che porta ad una proposta che poi diventano parti di quella proposta non vengo a raccontarlo qui personalmente ritengo che questa cosa per molti anni non ci fosse più cioè non c'era più stata era molto più slegata non solo il livello della comunicazione ma anche l'oggetto al di là della comunicazione l'oggetto del contendere le dinamiche di conflitto e le proposte di alternativa erano fortemente differenti dentro quella dinamica in realtà non penso che ci siano grandi considerazioni da fare cioè è abbastanza evidente che se si guardano tutti insieme e ovviamente c'è molto da costruire anche sul piano della capacità di dialogo di confronto quello che sta avvenendo è lampante cioè è un tentativo complessivo di risposta a quella dinamica di aggressione da un lato e dall'altro al fatto che onestamente è abbastanza evidente che questa rimane la stessa crisi degli anni 70 è una crisi da cui il capitalismo non può uscire se non aumentando in maniera esponenziale il livello di violenza che esercita sia nella devastazione delle basi del vivente sia anche in termini di gestione politica guardando anche semplicemente all'Europa non solo alle esperienze extraeuropee dal mio punto di vista è evidente che i primi passaggi di tutte queste forme sono sempre passaggi in cui si tende a non solo a rispondere a ciò che manca ma anche a tentare al tentativo di costruire percorsi totalmente diversi che partano proprio dall'eliminazione dei processi di valorizzazione cioè delle basi stesse del capitalismo e che vadano a incidere e a creare conflitto esattamente lì dove c'è l'elemento centrale cioè i processi di accumulazione interrompere quei processi agire là dentro e tentare di proporre società diverse sì sono assolutamente d'accordo con quello che hanno detto Stefania e Salvo prima di me ecco dal mio punto di vista la grande occasione se vogliamo di costruire un movimento che porti un'alternativa radicale e al contempo reale al sistema in cui viviamo e che sia globale per portata è un'occasione tra virgolette nell'ambito della crisi ambientale ecologica climatica anche proprio per il fatto che il capitalismo avendo abbracciato sia in estensione che in senso intensivo tutto il pianeta ha fatto sì che il conflitto avvenga e debba avvenire anche oltre un carattere specifico che è la località la nazione lo stato e su delle basi che effettivamente abbracciano tutto il pianeta in quanto anche essere materiale essere vivente ciò ovviamente non è per ricadere nella retorica ormai abbastanza trita del fatto che per esempio il cambiamento climatico essendo un che di appunto globale colpisce tutti allo stesso modo questo assolutamente non è vero non non dobbiamo appunto cadere in queste trappole perché sappiamo benissimo anche come ricordava Stefania prima che colpisce in modo diverso e anche può essere affrontato in modo diverso a seconda della capacità e dal potere che hanno determinati gruppi nel mondo al contempo è di fatto materialmente qualcosa che travalica dei confini posti dagli esseri umani e questo dà la possibilità ai movimenti di riconoscersi come dei movimenti che hanno una tensione comune e allo stesso tempo parlando di fine della modernità e di superamento delle categorie della modernità stesse dal mio punto di vista è un'ottima occasione per ripensare anche delle categorie che se vogliamo sono filosofiche quantomeno riguardano la filosofia politica della modernità come per esempio l'idea di giustizia perché forse per la prima volta siamo posti nella condizione nella necessità di dover superare un certo modo di pensare la giustizia che era un modo se vogliamo astratto l'idea l'uomo la giustizia per l'uomo che comunque era una per tutti gli uomini i diritti umani come un qualcosa di slegato dalla specificità e dalla singolarità perché diciamo che questo astrarre dalla concretezza della vita di fatto ha permesso nella modernità di proporre dei modi di fare giustizia o di praticare la giustizia che non sono andati effettivamente a a produrre una un'eguaglianza effettiva reale chiamiamola e anzi hanno continuato a giustificare per secoli le diseguaglianze ecco il fatto che noi siamo necessariamente portati dall'aspetto materiale della crisi a ripensare la concretezza della vita quindi nello specifico però anche per come essa è interrelata e come appunto ogni specificità locale ha a che vedere con tutto con tutta la globalità ecco questo penso che potrebbe davvero portarci anche a ripensare le nostre stesse categorie politiche possibilmente verso una trasformazione molto più radicale del nostro fare politica e questo ovviamente andrebbe anche ripensato nei termini non solo del cambiamento climatico della crisi ecologica ma anche nei suoi effetti proprio per le società umane per esempio se noi pensiamo alle migrazioni climatiche che necessariamente avverranno purtroppo il problema che si porrà per le nostre società sarà come rispondere ed ecco che di nuovo materialmente siamo posti di fronte alla necessità di smettere di pensarci come qualcosa che si può chiudere dentro un confine di un nuovo astratto è posto è arbitrario e invece ricollegarci alle nostre comunità sociali comunità ecologiche o socio-ecologiche grazie grazie a tutti e tre davvero per i vostri contributi a Stefania Barca Alice Largobbo e Salvo Torre e abbiamo finito per oggi e vi lasciamo di nuovo alla musica di Radio Sherwood grazie a tutti